Sì, mi hanno fatto sentire importante la squadra, i miei compagni e i datori, quindi sono contento e spero di fare ancora meglio la squadra. Che cosa ha rappresentato per te questa sera la vittoria contro la Juventus? Abbiamo vinto sicuramente una partita importantissima, abbiamo giocato contro la nostra migliore squadra in Italia, quindi siamo veramente felici e speriamo di fare la squadra. Questa vittoria porta qualche rimpianto per come è andata la stagione? Sì, magari sì, purtroppo abbiamo lasciato tanti punti sulla strada e questo è il rimpianto che ci facciamo. Grazie.